You're making me stronger, making me stronger You're making me stronger E ciao a tutti ragazzi benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Red Dead Redemption 2 Capitolo la caccia è aperta, signori oggi possiamo finalmente continuare quella che è la nostra spedizione di caccia agli animali leggendari C'era stato nell'ultimo episodio, non il 38 dove avete visto la cattura e dove abbiamo svelato chi c'era dietro il serial killer Ovvero tutte le uccisioni che c'erano in giro per la contraria, andatevi a rivedere quell'episodio perché è stato abbastanza interessante Ma nel 37esimo episodio, durante la caccia degli animali leggendari, avevamo scoperto che non potevamo prendere il jaguaro O meglio, la pantera leggendaria chiamata jaguaro perché dovevamo finire tutte quelle che erano le sfide maestro di caccia O almeno arrivare fino al rango numero 9 per poi sbloccare il rango 10 che sarebbe appunto andare a prendere jaguaro la pantera leggendaria Ma non le prenderemo in questo episodio, dobbiamo andare a prenderci altri due animali leggendari Intanto vi faccio vedere subito la schermata, ci siamo qui, pronti, siamo qui a Valentine dove abbiamo finito l'episodio adesso per me del serial killer Gli obiettivi di oggi sono il bisonte leggendario che si trova qui nei pressi del lago Isabella E poi qui nei pressi vicino Valentine dove siamo adesso la rete Bigorn Ok, allora che facciamo? Cominciamo con la rete Bigorn e poi ci dirigiamo verso quello che è il bisonte leggendario O facciamo da nord a sud? Questa è una domanda importante anche perché poi il trapper dov'è che è? È di qua Quindi tecnicamente ci conviene andare adesso dal bisonte visto che poi dovremo tornare qui dal trapper e poi andare a prenderci la rete Bigorn Almeno non dobbiamo fare qua giù, poi su di nuovo giù Ok, dai! Ok, allora dirigiamoci verso quello che è il lago Isabella e andiamoci a prendere il bisonte Leggendario Dovremmo essere in durittura di arrivo Che poi tra l'altro di bisonti leggendari in realtà ce ne sono due Questo è il bisonte bianco E poi l'altro è Tatanka, il bisonte leggendario Quindi poi dovremmo anche andare a prendere Tatanka Sei entrato nel territorio di un animale leggendario Perfetto, ci siamo Io credo che allora possiamo smontare da cavallo E possiamo iniziare a dargli la caccia Ok, allora abbiamo trovato i primi indizi Dunque Pelliccia Di là Ok, proseguiamo Escrementi? Suppongo di sì E quanto caca su bisonte Abbiamo bisonte Ok, iniziano ad esserci delle tracce fresche Prosegui di qua Ok Legno spezzato Ok Ok, lo vedo È lì davanti Perfetto Sì È proprio lui Eh raga Qui sarebbe importante stare molto attenti Troppo rumore E se il bisonte ce lo ritroviamo davanti Siamo fottuti praticamente Ok, provo ad avvicinarmi un pelo di più Porco Giuda Tanto di più Vai Spara compare E sono due L'ho lisciato Ok, stavolta è morto Porco Schifo Aspetta che qui dobbiamo un attimo Vai Facciamo così Poi riapriamo la bisaccia Tonici Questo è Medicina Questo è Siero Olio di serpente Vai Here we go Perfetto Vai Lo possiamo scuogliare Per prendere ciò di cui abbiamo bisogno Tanto la carne qui sicuramente si conserverà Meno 13 gradi Perfetto Filetto di manzo di prima qualità Holy shit Rachel Come here Come here Ok Signori Dunque Dobbiamo dirigerci al trapper Trapper che abbiamo visto prima Essere qua In una zona dove ci sono anche dei puma Bene Ok Perché a noi le cose semplici non ci piacciono Ok Siccome dobbiamo camminare un po' Ci vediamo quando siamo arrivati Oh porco Oh porco Ma perché becco sempre i lupi Ma sono un botto Corri 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 Scappa 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 Adesso li facciamo fuori tutti Ma scappa prima Uno Due Tre Quattro E cinque Calma 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 Porca miseria mi sono trovato accerchiato Raga ne abbiamo ammazzato di cinque Non ce n'è uno buono Tecnicamente li potremmo squagliare Squagliare eh Li potremmo squagliare Per prenderci la carne Ma In realtà sto a carico di carne Cioè Di provviste ne ho a bizzeffe Anche perché poi Squagliando Gli animali leggendari Di provviste Ne facciamo Un bel po' Quindi allora aspetta un attimo Che qui Intanto la temperatura Oddio non è che si sta alzando Quindi dai Possiamo continuare ad andare così Dai Oh un greggio Bella fra Oddio a me servirebbe Delle pelle Della pelle di pecora Solo che distruggere un greggio Non mi sembra il caso Oppure si Quanto me ne serve? Mi serve la pelle perfetta Di cinque pecore Ma sai che Quasi 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 Ma si Ma si ma chi se ne frega Dell'onora A me mi serve La pelle di pecora Ma che cazzo Me ne frega a me Vai Scuoia Siamo fra scuoia Che andiamo dal trapper Adesso gli vendiamo tutto Anche la lanna di pecora Tre su cinque Va bene Comunque più della metà Sicuramente altre due Ce n'erano Solo che A quel punto risulta Un pochino Un pochino più complicato Perché A parte che il dettag Era finito E poi comunque Più di tre Credo Non le possiamo portare Ok dopo questo Lieve pit stop Prima dovuto ai lupi Adesso Alle pecore Possiamo continuare E andare dal trapper Stavolta in teoria Dovremmo arrivarci Eh no C'è un puma Eh vabbè Ho capito Ma allora Ce l'avete con me Eh porco schifo Allora possiamo Per cortesia Arrivare al trapper Senza Ulteriori intoppi Ok Ci riprovo Ragazzi Noi ci vediamo Quando siamo arrivati Al trapper Spero Allora Ci dovremmo essere A me che non mi sbuca qualcosa Perché qui vicino Mi pare ci sono anche Degli orsi Quindi insomma Oggi Veramente È un episodio Abbastanza complicato Ci sono delle difficoltà Scusi eh Intanto facciamo Quello che Dobbiamo fare Da Abbastanza tempo Ovvero andare a vendere Tutta questa roba Al tizio qui che È accampato Ma non se lo sbrano nessuno Negoziante Vendi Eh ci abbiamo Un bel po' Di robetta A parte qui Tutte piume Queste qui Purtroppo Non le possiamo Utilizzare Per fare Gli oggetti Perché credo che Servono solo Le pene di uccello Per creare Gli oggetti Vabbè comunque Allora Pelle di bisonte Bianco Leggendario La vendiamo E vendiamo Le pelle di pecora A sei Incredibili E pazzeschi Dollari Oh Ok Ok Perfetto Detto ciò Dobbiamo tornare Qui in prossimità Di Valentine Per andare a prendere La pecor La capra bigor La pecora bigor La riete bigor Perfetto Non ne ho zaccate Neanche una volta Quindi Bisogna rimetterci In cammino Mamma mia Quanta cazzo Di strada Che bisogna fare Ogni fottuta volta Comunque Va bene Non Non tergiversiamo Non ci incischiamo E let Esego Sperando che Il tragitto Di ritorno Verso Valentine Sia meno Complicato Di quanto L'è stato Quello Verso Qui il trapper Perché non abbiamo Fatto altro Che incontrare Cose Ambigue Guarda 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 Che abbiamo Già qualcosa Dietro E basta Shandala Madonna Che poi Che poi Lo volete sapere Qual è la cosa divertente E che quando sono venuto qui A cercare i puma Per fare le sfide da cacciatore Dovevo prendere e scuogliare Dovevo uccidere e scuogliare Cinque puma Con l'arco Sono stato qui Gli anni Non c'è stato un fottutissimo puma Sono dovuto andare nel deserto E farmi i milioni di chilometri Per trovarli Porca di quella troia Adesso ne ho trovati due Così A caso Poi dici Che uno veramente Non bestemmia Dopo Dai Ho ammazzato anche un uccello Adesso Investendolo con il cavallo Ma non è possibile Ma che cos'è Ma faccio più caccia Quando vado in giro Per non farla Che quando la voglio fare Ci sono dei problemi Vabbè scoglia Prendiamo le penne Vabbè a parte che lo apriamo Così veramente Con la forza brutta No 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 Non mi fermo C'è troppa gente Basta Basta Mi sono rotti i coglioni Ok Li faccio fuori tutti Ok Li faccio fuori tutti Si stronzi All'ultimo Gli faccio zompare la capoccia Con il fucile a pompa Aspetta ragazzi Ci sono delle complicazioni Aspettate un secondo Ma qui quanta cazzo Di gente c'è Vai di nuovo Olio di serpente Vai Drogati bello mio Porco schifo Bastardo Brutto stronzo Non puoi scappare adesso Basta Assumi le tue responsabilità Mi avete attirato qui? Adesso morite tutti Un episodio che dire complicato È veramente dire poco Holy shit Sei entrato nel territorio Di un animale leggendario Oh Finalmente Siamo arrivati Oh perfetto Pensavo che mancava un po' Invece ho visto Il puntino dell'indizio Qui vicino Oh Finalmente Possiamo proseguire Con quello che è Tecnicamente L'obiettivo primario Di questo episodio Che è stato più complicato Del previsto Questo video sarà Non breve ma intenso Ma lungo ma intenso Perché Abbiamo fatto della caccia Veramente allucinante E abbiamo anche distrutto Una banda completa Ma vabbè Non ci facciamo mancare nulla Signori Non ci facciamo mancare nulla Ok Di qua dobbiamo attraversare il fiume Nell'acqua si perdono un po' le tracce Segni sull'albero Perfetto Ok Ok Lì davanti Ok Un pelo più avanti Perfetto Pelliccia Ok Credo che adesso La troveremo Ok L'ho trovata Dovrebbe essere quella Il problema è uno Non si ferma Basta Questi cazzo di lupi Basta 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 Devo prendere il cazzo di ariete Bigorn Guarda dove cazzo è andato Questo ariete di merda Ma porca di Quella Bastarda Devi morire Holy shit Oh E sarà di una complicazione Incredibile Ma tutto l'episodio Non solo Squoia Perfetto Anche la riete bigorn È andato Guarda il lupo Guarda il lupo Guarda lì Quei lupi di merda Sto distruggendo Tutta la fauna Della contea Per prendere Due animali Leggendario Ma possiamo Prendere anche La carcassa Di questo Ah Possiamo anche Prendere la carcassa Sì perché Questo è più piccolino Ok Signore Se Ci è Permesso Perché Porco 2 49 minuti Di registrazione Di solito Questi con una ventina Di minuti Li faccio Porco Due Poi dici perché Che ci sono stati Intoppi Allora andiamo di qui Questo è un trapper Che è un pelo Più vicino Se dai un pelo Ma forse Forse sanno uguali Però magari Facendo Andando da quest'altro Becchiamo Meno Meno problemi Rachel scendi piano Mi raccomando Se sopravviviamo E Se non troviamo Intoppi Per la via Ci vediamo tra poco Al trapper Popolo Popolo della notte E popolo Della pioggia Siamo arrivati Finalmente Dal trapper Senza Incredibilmente Trovar problemi Probabilmente abbiamo Sterminato tutta la fauna Della contea Quindi non c'è più nessuno Da scuogliare Negoziante Vendi Ok Vediamo un po' C'è un po' Di robina Fratello C'è in realtà C'è una carcassa Di ariete bigorn Leggendaria Pelle di bigorn Leggendario E Fra Non c'ho più Non c'ho più niente C'è Basta O almeno Da dare a te Non ho più nulla Forse le corna Di uopiti Però queste qua Quasi quasi Me le tengo Posso usare Per creare un oggetto Non so che oggetto Ma ce le teniamo Signori Io concludo qui Questo episodio Fammi salvare Intanto Perfetto Signori Faccio così Perché altrimenti Se continuo ad andare in giro Trovo delle situazioni Che mi capitano E non mi fanno terminare L'episodio E sono già 55 minuti che registro Quindi diciamo che Abbiamo Sforato ben Più del previsto Quindi un altro episodio Oggi volevo farmelo Ma Con le tempistiche Così Non ci siamo affatto Signori Io vi saluto dunque Vi ringrazio per aver seguito Anche questo video Che è stato un po' più complicato Ma secondo me Anche abbastanza divertente Vi lascia un like Un commento E di iscrivervi Se non lo avete ancora fatto E ci vediamo Ad un prossimo video Sempre qui sul canale Sempre Su Red Dead Redemption 2 Capitolo La caccia è aperta Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti